Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del mondo di Beastard Ci arriviamo a lasciare appunto con la scritta Ci sono stati tantissimi vostri suggerimenti E quindi, boom! Eccola qua, completata Eccoci qui, andiamo sull'ala Questa qui è la scritta di Youtube Come vedete ho utilizzato la lana rossa Guardate che figata La lana rossa ho utilizzato perché la pietra rossa non c'entrava assolutamente nulla È perfetta Veramente a me piace veramente moltissimo Avevo quasi quasi intenzione di fare la lana rossa dietro Lasciare un quadratino dietro Così tipo da farla in 3D Però posso fare anche delle altre scritte tipo in 3D ragazzi Qualcosa di un po' più interessante Quello lì magari scrivetemi sotto nei commenti cosa potrei creare in 3D Che a me queste cose qua a me piacciono veramente tantissimo E appunto come vedete siamo sull'aereo E ha nevicato ovunque Quindi andiamo un attimo a sistemare l'aereo E poi dobbiamo assolutamente ragazzi Costruire una cosa veramente fantastica Ovvero un bellissimo campetto da calcio Perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi Eccoci qui Spero che vada bene così e basta Per chiudere l'aereo Eccoci qua perfetto Cioè consumiamo tutta la pietra lavorata che ho creato Nella fornace poi ne ho ancora un pochettino E comunque si siete stati veramente in tantissimi A chiedermi Beastard Fai uno stadio Fai Che ne so io qualcosa lì per i gladiatori Tipo un mezzo colosseo Fai qualsiasi cosa Dove cavolo si esce di qua? Eccoci qua Porca che casino Eccoci qua E come idea non mi dispiace E quindi ho già Mi sono già avvantaggiato diciamo col lavoro Ho fatto ecco qui perfetto E quindi ho già spianato la zona dove vorrei fare il campetto da calcio Chiaramente spero di farlo regolamentare possiamo dire Di farlo abbastanza bene Eccoci qui Così anche la prima classe è coperta Qua possiamo chiudere Così non nevica più dentro qui nel mio cavolo di aereo di prima classe Eccoci qua Sei l'ultima fila? Per un pelo Non ne ho un altro? No perfetto Allora Questo qui è tutto l'aereo finito Poi chiaramente qua Bisognerà alzare i muri O se no lo posso anche lasciare così Cosa dite? Così uno può spiare dentro cosa succede E comunque questo fatto così non nevica più Porca vacca Cioè ma vi pare che nevica dentro l'aereo? E quindi noi adesso Andiamo laggiù Allora andiamo esattamente In quel punto lì Te pareva che non ci fosse un creeper? Maledetto! Ecco fatto Non esplodere All'attacco! No E olè morto Maledetti creeper In questa zona spawnano miliardi di creeper Allora io qui Mi stavo dicendo Ho già spianato tutto Non so se vi ricordate qua come era Ma era tipo a gradoni Fatto strano Ho completamente tutto spianato E adesso qui si fa il campetto da calcio Però mi serve Cavolo No! Cosa c'è dietro? Il BM zombie Te pareva? Maledetti! Mi serve Altra lana Perché io qui l'ho completata tutta quanta E quindi fatemi un attimo andare a vedere se Allora no Nel galeone Qui prendiamo un po' di roba L'avevo tutta presa la lana E quindi niente Ho altro cibo? No! Ho finito anche Ah no! Ho 21 pollicotti Ok! Allora niente Io vado ragazzi Giù in fondo Nella mia fattoria Prendo Altra lana Non so quanta prenderne Uno stack Due stack Non lo so ragazzi Aspetterò fin quando la lana Non ricresca su dalle pecore Perché non so Ho le pecore ragazzi Bioniche La loro lana Ricresce alla velocità della luce E niente Poi quando avrò uno o due stack Tornerò qua da voi E andremo a fare Le linee del campo Da calcio Ed eccomi qui arrivato Allora Ho preso Quasi dai due stack Completi E però Bisogna un attimo Vedere qui ragazzi Come fare il campo Allora Come vedete Io inizierei a farlo Esattamente qui Ah mi serve una pala Sì ce l'ho Grandissimo Allora Mettiamo via l'arco Noi inizierei a fare il campo Da qua Quindi il letto Va via Perfetto E inizierei a costruirlo Se Qua O qua Vai qua E proviamo A vedere così Come viene Anzi no Così è un po' troppo No Così ragazzi Non ci siamo Non ci siamo Diventa troppo Troppo stesso il campo Anche perché Qui adesso c'è la rotaia Che poi posso magari spostare Fargli fare una piccola deviazione Secondo me il campo deve essere proprio qui Allora Vi dicevo Così è meglio andare Perché bisogna andare sempre dritti Con il campottino Da calcio Vedete qua quanto si allarga poi Adesso arriviamo fino in fondo E vediamo un po' Di quanti blocchi Io sinceramente non so Di quanto parlo Se c'è Un blocco Sì dai Così può andare Penso che così Possa andare ragazzi Anche perché qui Poi c'è la pietra Sotto Quindi Facciamo così E chiudiamo da questa No porca vacca Cosa c'è qua Ah è vero Qui c'era la grotta ragazzi Che l'avevo coperta Allora Facciamo Eh Che casino raga Allora La facciamo in questa maniera Perfetto Allora Così non dovrei più Cadere di sotto E lo facciamo Largo così Fatemi vedere No è ben strettino Così Dobbiamo andare ancora avanti Di uno E due Perfetto ragazzi E queste qui Sono le linee Del campo Allora Qui che cavolo ci fa La pietra Non è che dobbiamo giocare Sulla pietra Sul pietrisco Così cadi cavolo E ti frantumi il ginocchio Allora Adesso da questa parte qui Andiamo dritti Di qua Magari era meglio Se andavo giù Da questa Perché qui è molto Più stretto Vai così Perfetto Beh Ah no Si fermava qua Il campetto Fatemi vedere Da in alto Com'è Un po' ben strettino Il campo Magari lo facciamo Fino qua Si dai Continuiamolo Da questa parte Si dai È perfetto Come campettino Da calcio È veramente Perfetto Allora Adesso ci piazziamo La lana Ed eccoci Quasi Arrivati Eccoci qua Perfetto Questa qui La riprendiamo Perfetto Allora Questa è fatto Adesso io per le porte Avevo fatto Le staccionate Allora Andiamo a occhio Perché la porta potrebbe essere Tipo da qua A qua Guardiamo un attimo Da distante Cavolo Le ho messe così perfette Ragazzi mi sa eh Oh come al solito No 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 Facciamo così Perfetto Come al solito Come al solito Mi sa che ho fatto Il campettino Da calcio Un po' Storto Vediamo qui Ce n'è Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sul set Si costruisce E quindi E quindi Qua ce n'è Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sul set si costruisce Fantastico Qui mettiamo Qui mettiamo le porte Così Perfetto Allora Fatto E E Come cavolo Facciamo le porte Così E dai Non è male Non è niente Niente male Così E poi Magari Potrei fare La porta Che scende giù Così Ragazzi Cosa dite Vediamo un po' Che cavolo Sto creando Un attimo Poi si scende giù Così E fa così Poi qua La chiudiamo Poi in teoria Qua sarebbe Da riempirla Con i blocchi Di lana Vediamo Si viene Una schifezza Si viene Abbastanza una schifezza Ragazzi Volevo fare tipo Come sulle vele Del Del vegliero Del galeone gigantesco Però È venuta un po' male Allora Facciamo così Allora Qui ci va l'altra Perfetto E l'altra Ancora Dovrebbe essere Esattamente Boh Da questa parte Vediamo Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Perfetto E così E così È l'altra Porta Però dai Non è male Questa cosa qui Scrivetemi nei commenti Come dovrei Fare una porta Magari devo mettercene Di meno Di queste staccionate Però Secondo me Così non è che Viene proprio Bruttissima Bruttissima Come cosa E quindi direi che Il campetto da calcio Per oggi È stato Costruito Chiaramente poi Sarebbe Fantastico Da mettere Magari Anche Le tribune A lato Fare tipo Sulla destra Qualcosa E potrei farlo Assolutamente Poi devo finire Anche questa porta Qui Ma comunque ragazzi Il video per oggi Si può concludere qua Spero vi sia piaciuto Continuate a scrivermi Nei commenti Tantissimi Suggerimenti Come migliorare Questo campettino Da calcio Poi chiaramente Manca la linea In mezzo Tonda Manca veramente Tantissime altre cose Quindi nei prossimi video Andremo a sistemare Anche il campetto da calcio Finiremo Il nostro Mega Aereo Perché manca ancora La coda E poi Possiamo dire Che è Concluso Quindi lasciate Tantissimi pollicioni In su Arriviamo a 7000 mi piace Commentate Passate nella pagina Facebook Iscrivetevi al canale Qua da Vistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo E noi ci vediamo